La preghiera di un filosofo. Voltaire, Sermone dei Cinquanta. Possa questo grande Dio che mi ascolta, che non può essere nato da una fanciulla, né essere morto su di un patibolo, né essere mangiato in un pezzo di pasta, né avere ispirato questi libri pieni di contraddizioni, di menzogne e di errori, possa questo Dio, creatore di tutti i mondi, aver pietà di questa setta di cristiani che lo bestemmiano, possa egli ricondurli alla religione santa e naturale e spargere le sue benedizioni sugli sforzi che noi facciamo per farlo adorare. Amen.